Oggi è la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare E quindi ho fatto una cacio e pepe, però con le croste di formaggio Croste di formaggio, in questo caso pecorino, grano e parmigiano Graziamo per togliere lo strato più esterno Mi raccomando perché questa parte è stata esposta all'aria per mesi Tagliamo a pezzi un po' più maneggevoli Mettiamo in un pentolino, copriamo ad acqua fredda e facciamo sfiorare il bollore Quando è così spegniamo e lasciamo in infusione per un po' Togliamo il grasso in superficie, via in freezer che lo usiamo per mantecare E questo super brodo bellissimo lo usiamo per risottare gli spaghetti Pepe in padella, shakey shakey facciamo tostare Quando profuma, brodo di formaggio Quando bolle, saligno e risottiamoci gli spaghetti Ovviamente questo bellissimo scarto non si butta Mettiamo su carta forno, stendiamo bello fino E passiamolo in forno per dargli nuova vita Un po' agli 80 ma ce la facciamo andare bene Deve essere bella quesperi Se serve si aggiunge altro brodo La pasta è al dente, via dal fuoco Mantechiamo con il suo grasso Ovviamente andando di shakey shakey E giusto un tocchettino di pecorino Poca roba perché è già bella intensa Io direi creamy Mettiamo in un piatto la sua sauce Pizzico di pepino E chiudiamo con le croste croccanti E chiudiamo con le croste croccanti